Salve a tutti e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. Iniziamo subito con parlare dell'emergenza sanitaria. L'Italia è sempre più gialla. La Campania, anche per questa volta, dovrebbe evitare la zona arancione. Passiamo poi con il pressing delle regioni in merito alla questione delle riaperture e il nodo del coprifuoco. Abbiamo ascoltato le opinioni dei torresi. Continuiamo ancora con la cronaca. Operazione dei Carabinieri a Bagnoli, dove è stato scoperto un pericoloso arsenale. Sequestrati ben 13 chili di droga, arrestati i due responsabili. Infine, occupiamoci di sport. La Tourist, il presidente Colantonio, ha messo in vendita la società. Il patron Corallino attende offerte fino al 15 giugno. Ha approvato intanto il nuovo format della Coppa Italia, che vede escluse le squadre della Serie C. Vediamo. L'Italia diventa sempre più gialla e nessuna regione dovrebbe essere russa. La Valle d'Aosta dovrebbe, infatti, diventare arancione. Vesso un cambio di colore anche per Calabria, Puglia e Basilicata, che dovrebbero passare dall'arancione al giallo. Incerta ancora la situazione per la Sardegna. Le decisioni, sulla base dei dati della cabina di regia, verranno prese dal ministro della Salute Roberto Speranza con l'ordinanza nelle prossime ore. Decisioni agevolate dal miglioramento generale del rischio in Italia per l'epidemia di Covid. Intanto, continua il pressing delle regioni sul nodo coprifuoco e riaperture. L'obiettivo, fermo restando che il 15 riapriranno sia le piscine all'aperto sia i centri commerciali nel fine settimana, è quello di anticipare, al 17 maggio, l'apertura delle palestre e dei ristoranti al chiuso, prevista invece dal decreto per il primo giugno. Mossa per arginare le proteste delle categorie, che continuano a protestare in queste settimane. Quanto al coprifuoco, difficile che il governo decida di eliminarlo totalmente e dunque si va verso il posticipo alle 23 o a mezzanotte, rinviando all'inizio di giugno ulteriori scelte. Resta in ogni caso alta l'attenzione in vista dei weekend, possibili occasioni di assembramenti e situazioni di rischio. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha firmato ieri un'ordinanza che per il mese di maggio prevede la possibilità di chiusura al traffico pedonale e veicolare delle vie d'accesso alle spiagge cittadine, da venerdì alla domenica in caso di assembramenti. La misura ricalca quella già adottata in precedenti occasioni, come Pasqua e Pasquetta. Per quanto concerne i numeri, l'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale ha attestato 1.503 nuovi casi, di cui 444 sintomatici. Il tasso di positività, che qui non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 7,12%, in levissima risalita rispetto al 6,62% dell'altro giorno. In calo alle vittime, 22%, mentre alto il numero dei guariti, poco meno di 2.200. I posti occupati in terapia intensiva, si apprende dal bollettino giornaliero dell'unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, sono sostanzialmente stabili a quota 123, con un calo di 26 unità per i posti in degenza. Continua il pressing delle regioni riguardo il nodo riaperture e quello del coprifuoco, lei cosa ne pensa? Io penso che a prescindere dalle riaperture e per il coprifuoco, secondo me l'unica cosa importante è che debba essere intensificati un pochettino i controlli, perché se tutti quanti stessimo in giro, però tutti con la mascherina, rispettando le distanze e tutte le procedure, sarebbe sicuramente l'ideale per tutti. Lei quindi segnala delle criticità in tal senso anche nelle zone circostanti? Io vedo parecchia gente che magari passeggia, forse più ragazzini che persone adulte, senza particolare controllo di avere mascherina messa nel luogo giusto, coprendo il naso o comunque stando soprattutto distanti l'uno dall'altro. Salvo novità dell'ultima ora, la campagna dovrebbe rimanere in zona gialla, lei è d'accordo? Io sono d'accordo, nel rispetto sempre di tutte le normative igienico-sanitarie, sì, cioè per me è giusto così, perché poi magari il negozio resta chiuso, ma la gente comunque c'è in giro, fa sembramenti, insomma non ha tanto senso poi per il commerciante che magari è costretto a stare chiuso. Giusto che sia per tutte queste povere persone che non lavorano e che hanno un'attività con delle spese, delle cose, bisogna effettivamente continuare in questo senso qua, con un po' di legalità a riguardo proprio delle sicurezze delle persone che stanno lì a lavorare. Io sono in pensione per cui capisco le persone che praticamente a fine mese non ce la fanno e questo pressing purtroppo è dovuto da queste persone che devono lavorare. E lo stesso De Luca ha lanciato questa card vaccinale, questo attestato di immunizzazione tramite la vaccinazione, può essere questo lo strumento per rilanciare le attività, soprattutto quelle turistiche? Se lui ha deciso di fare questa card può essere qualcosa di positivo perché parecchie persone come stiamo vedendo che vendono dei certificati falsi che attestano che si sono fatti i vaccini e cose extracomunitari comprese. Non è che sono razziste, però le cose non vanno così perché ci dobbiamo salvaguardare la nostra nazione, dobbiamo salvaguardare il nostro comune, il nostro bene e quindi ci vuole un ente che controlla tutte queste discrepanze. Continua il pressing delle regioni riguardo il nodo del coprifuoco e sul tema delle riaperture, lei è d'accordo? Cioè lei cosa ne pensa? Il coprifuoco deve rimanere perché non lo decide il governo, lo decidono i professori e i professori degli virologi perché la malattia gira ancora, quindi non dobbiamo lasciare libero a chi vuole aprire tutto. Bisogna aspettare perché è la responsabilità di tutti quanti, che oggi come oggi i ragazzi già non la rispettano. Immagino poi se tolgono il coprifuoco. Continuare sulla rinua dei rigori fino a quando la situazione non migliora? Ma il coprifuoco non l'hanno inventato i politici, il coprifuoco l'hanno autorizzato e messo nella cosa sanitaria perché siamo ancora pieni di virus e non si può rischiare. È d'accordo con la decisione che dovrebbe essere ufficiale nelle prossime ore di mantenere la campagna in zona gialla? Dipende dai numeri, se i numeri dicono che si può stare in zona gialla ben venga, però bisogna capire se questi numeri sono dati reali o sono dati giornalistici. E la situazione in giro come la vede in termini di assembramenti, di eventuali situazioni di rischio? È quella poi responsabilità del singolo cittadino, stare attento e quindi cercare di rispettare quantomeno le regole che ci sono state date già da un anno a questa parte. Siamo noi, penso che siamo principalmente noi gli artefici del nostro destino in questo momento. Quindi se ci comportiamo rispettando le regole forse rimarremo in zona gialla e chissà se riusciremo a toglierci anche la mascherina. E teme che questa sorta di liberi tutti, queste riaperture seppur graduali, possano in qualche modo innescare l'incoscienza dei cittadini? Sicuramente sì, perché liberi tutti purtroppo già si nota per strada una certa libertà che probabilmente non ci porterà buoni risultati nelle prossime settimane. Però si spera sempre nella coscienza delle persone e dei cittadini perché l'unico modo per affrontare questa situazione è avere coscienza. Non si può lasciarsi andare, ecco, proprio con la parola liberi tutti, no, non va bene. Duro colpo alla criminalità organizzata scoperto dai carabinieri un pericoloso arsenale di armi e droga. I carabinieri del comando provinciale di Napoli, dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti a fuori grutta, hanno intensificato i controlli nell'area, setacciando le strade ed eseguendo diverse perquisizioni a pregiudicati. Durante le operazioni, in nottata, i militari del nucleo investigativo della compagnia di Napoli Bagnoli hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale di armi all'interno di un negozio di ortofrutta in via Miseno. Dieci pistole, sei kalashnikov, cinque pistole mitragliatrici, due giubbette antiproiettili e una bomba carta a diverso munizionamento. I carabinieri hanno trovato nel negozio anche 13 chili di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. Arrestati il titolare 41enne dell'attività e un suo parente 74enne, anche lui all'interno dell'esercizio commerciale. I due arrestati sono entrambi del posto e incensurati. Sono tuttora in corso i rilevi tecnici e le armi saranno sottoposte anche a rilevi balistici per appurare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue e negli eventi delittuosi avvenuti di recente nei quartieri dell'area occidentale della città. Futurio societario ancora da scrivere per la Turris, messa in vendita dal presidente Colantonio non appena il campionato si è concluso. La deadline imposta dal padrone Corallino è quella del 15 giugno, termine entro cui l'attuale proprietà valuterà eventuali offerte. Vendere ma senza svendere. Questa è la volontà di Colantonio che rassicura i tifosi sul futuro della Turris. Se entro il 15 giugno non dovesse presentarsi nessuno seriamente interessato, afferma il presidente, non vorrei far fallire la Turris. Io non sono un presidente che vive di calcio, ma del fare azienda. Voglio anche rimetterci dal punto di vista economico, a patto però di divertirmi. Se questo non succede più, giusto lasciare il passo a chi è più interessato e motivato. Il riferimento va a diverse critiche che sono piovute sulla sua figura. Chi si espone al pubblico è chiaro che è soggetto a critiche. Queste però, si difende, non devono però essere un motivo per destabilizzare chi opera, altrimenti significa che questa persona non è tagliata per occupare certi ruoli. Se mi dicono, aggiunge, che non sono in grado di fare la Lega Pro, è un'opinione che va rispettata. Ed anche per questo motivo ho aperto ad altri imprenditori, dando la possibilità di portare avanti il club a persone che possono avere maggiori competenze, possibilità e risorse rispetto al sottoscritto. Nei giorni scorsi lo stesso Colantonio aveva parlato di due possibili gruppi fuori da Torre del Greco, interessati all'acquisizione del club. Ma la priorità, almeno per il momento, resta quella di poter cedere il titolo ad un imprenditore locale. In vista della prossima stagione, l'unica certezza è che la Turis non parteciperà, così come per le altre squadre di Serie C, alla prossima edizione della Coppa Italia, che a partire dal prossimo anno sarà rivoluzionata. Escluse le squadre della terza divisione, mentre la nuova formula coinvolgerà esclusivamente i club di Serie A e di B. Di forma, quella varata dal Consiglio di Lega, utile a rendere più appetibile il prodotto Coppa Italia in termini di diritti televisivi. Tempestiva, la rabbia del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema. Prevista dunque la risposta da parte dei club di Serie C, nel Consiglio direttivo convocato per lunedì. E con questo è tutto. Prima di salutarvi, vi ricordo i recapiti per contattare la nostra redazione. Se volete inviarci una mail, potete farlo all'indirizzo redazione-tvcity.it. Invece per segnalazioni telefoniche, lo si può fare al numero 340-6561-484. Vi ringrazio per averci seguito. Buon weekend a tutti. Buon weekend a tutti.